Ben trovati da Nico Schiodetto, dopo un fine settimana di pioggia e di maltempo su tutta Italia per una vasta circolazione di bassa pressione, ora cambia tutto e da mercoledì in poi in vista fino al weekend l'alta pressione si imporrà sul Mediterraneo apportando una fase stabile, di cieli serenio poco mulosi ovviamente con quest'anticiclone torneranno di notte al mattino, boschie dense e nebbie in pianura padana, temperature in aumento nei prossimi giorni tanto che toccheremo quasi 20 gradi sulle due zone maggiori, punte di 17-18 gradi da giovedì anche sul lato tirrenico. Per quanto riguarda i cambiamenti poi nel weekend non escludiamo una maggiore variabilità per un lieve cedimento dell'alta pressione su alcune delle nostre regioni soprattutto il nord-est e la parte adriatica, ancora presto parlarne però aggiornamenti sul nostro sito web o scaricando la nuova app di Trebi Meteo.